Pistop sul Mataiolo. 29 giugno 2014. Come al solito il tempo non è dalla nostra, ma i temerari fuoristradisti non hanno volato. Siamo trovati una quindicina di macchine correlativi facci. Ora ci propingiamo alla dimostrazione dei cipi tipici triunfani. Con relativi vini tipici di sud-sud. Tutto oggi è piacevole. Ecco i partecipanti che si divergono, vagordano. Una festa con tutti i crispi. Qui si mangia e non si scherpa. E come vettura più caratteristica la Panda 4x4 del 1991. e ha partecipato al nostro raduno comportandosi in maniera magnifica. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!